Più 30% sulla bolletta energetica nel 2022 rischia di generare ripercussioni anche sul Servizio Sanitario Nazionale che in Italia destina la spesa per l'energia a 1,54 miliardi di euro. Circa 500 milioni in più che graveranno sui bilanci delle aziende sanitarie pubbliche, lo dice la Fiaso, che ha stilato un malemecum per promuovere il risparmio energetico nelle aziende sanitarie e negli ospedali. Tra le 10 buone azioni a basso costo, nominare l'energy manager dell'azienda, utilizzare luci esterne LED, regolare le temperature di mandata dell'acqua calda e dell'acqua fredda, coinvolgere i dipendenti in comportamenti responsabili. Grazie per la visione!